A Trapani, di vieto di avvicinamento per un 60enne, perseguitava l'ex convivente e vale dai domiciliari a Marsala, arrestato un 43enne. Da oggi in vigore il Green Pass, un agente su dieci della Polizia Penitenziaria, non ce l'ha. Questione chiusura del ponte sul fiume Arena, le interviste al Sindaco e al Comitato. Ben ritrovati amici telespettatori con l'informazione di Teleotto sul canale 190 del Digitale Terrestre. Nel pomeriggio di martedì scorso i carabinieri della stazione di Campobello di Mazzara hanno arrestato un uomo di 60 anni, originario di Castelvetrano, in esecuzione di un ordine restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Marsala, che ne ha disposto la detenzione domiciliare. L'uomo doveva espiare la pena di due anni di reclusione e al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione per scontare la sua pena in ordine a reati di ricettazione commessi nel 2010. Un altro ordine di non avvicinamento è stato ovviamente messo nei confronti di un uomo di 60 anni che perseguitava la sua ex. Tutto ciò è accaduto a Trapani. I dettagli nel nostro servizio. I carabinieri della stazione di Paceco hanno eseguito il provvedimento restrittivo con cui l'autorità giudiziaria del Tribunale di Trapani ha sottoposto un sessantenne alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'uomo è accusato del reato di maltrattamento in famiglia ai danni della propria ex convivente. In particolare la paura per la propria incolumità ingenerata dai ripetuti appostamenti sotto casa, dai pedinamenti e dai continui contatti telefonici intrapresi dall'uomo dalla fine della loro relazione hanno portato la vittima a chiedere aiuto ai carabinieri. I carabinieri della stazione di Trapani, Borgo Annunziata, dopo aver raccolto la denuncia della donna, hanno avviato spedite indagini svolte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trapani con le modalità stabilite dal Codice Rosso che hanno fornito importanti riscontri alle dichiarazioni rese dalla vittima in sede di denuncia. Tale circostanza pertanto ha permesso l'emissione del provvedimento giudiziario eseguito dai carabinieri nella giornata di ieri. I carabinieri della stazione radiomobile della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto ieri un marsalese di 43 anni. L'uomo, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari mentre si trovava in pubblica via e quindi in violazione delle prescrizioni imposte. Al termine delle formalità di rito, il 43enne veniva nuovamente tradotto presso la propria abitazione dove rimaneva anche solo dopo la convalida dell'arresto avvenuta nella prima ora di stamattina. È un grave atto vandalico è avvenuto nella notte e danni dell'abbeveratoio sito in via Conte Agostino Pepoli a Trapani. Danneggiata la rubinetteria da poco ripristinata dal comune in quello che può essere definito un atto criminale ad opera di delinquenti che non hanno certamente a cuore la propria città. Grazie alle telecamere di sorveglianza si ritiene di poter risalire agli autori del gesto. Denunciamo alle autorità competenti l'ignobile atto perpetrato ai danni di uno dei simboli di Trapani da poco recuperato, hanno detto il sindaco Tranchide, l'assessore Laporta e non accettiamo che qualche delinquente possa prendersi gioco di un bene pubblico importante della nostra città. E come abbiamo detto nei titoli, da oggi entra in vigore l'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro ma un agente penitenziario su dieci non è vaccinato. Ci sono a rischio dei servizi. Il 10% di poliziotti penitenziari non risulta vaccinato in Sicilia potrebbero mancare all'appello 300 poliziotti penitenziari. Queste le parole di Gioacchino Veneziano, segretario generale della Wilpa Polizia Penitenziaria Sicilia alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass nelle carceri così come nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Purtroppo, commenta Veneziano, se questo numero non scenderà per effetto dell'avvenuta vaccinazione o l'effettuazione di tamponi rapidi, tale assenza si sommerà alla carenza di oltre mille unità di polizia penitenziaria con ripercussioni ulteriori per l'ordine e la sicurezza in tutti i servizi istituzionali del corpo. Noi siamo stati chiari come sindacato e cioè finché il vaccino non sarà reso obbligatorio, la sicurezza del lavoratore deve essere a carico dell'amministrazione e quindi anche il costo dei tamponi rapidi. Sempre secondo quanto sottolinea il leader della Wilpa Polizia Penitenziaria della Sicilia, i servizi della Polizia Penitenziaria sono organizzati sulle 24 ore, quindi la durata del tampone a volte potrebbe non essere sufficiente a coprire l'intero turno di lavoro. Infine, conclude Veneziano, qualcuno deve spiegarci perché gli avvocati e i familiari dei detenuti che entrano nelle carceri vengono esentati dall'obbligo del Green Pass per accedere, di contro chi ci lavora lo deve obbligatoriamente avere, pena l'impossibilità ad accedere con la totale perdita dello stipendio. È stato segnalato addirittura che in certe carceri il personale è obbligato a consegnare il Green Pass all'amministrazione, cosa vietata dal decreto. Un'altra leggera scossa di terremoto è stata registrata stamattina alle 12.33 nel terreno meridionale in mare aperto. La scossa di 3.1 gradi della scala Richter è stata assestata a circa 71 chilometri a nord-ovest da Trapani. E continua a tenere banco la questione della chiusura del ponte sul fiume Arena. Prima dell'inizio della conferenza indetta dal sindaco, nel corso della quale il primo cittadino ha incontrato i membri del comitato Boccarena e i giornalisti, abbiamo ascoltato due soggetti del comitato, l'ingegnere Caccellione Emmola e Dino Burgio. Ascoltiamoli. L'incontro di stamattina sembra che l'amministrazione e il sindaco abbiano accolto una delle due nostre proposte, diciamo che è quella di fare il ponte alternativo. So dai mezzi di informazione che ha nominato per Senior Group, siamo qua per sentire, noi siamo fiduciosi che diciamo si potrà risolvere a breve perché il disagio nostro è veramente grande, c'è un sacco di gente che è costretta ogni giorno a fare un casino di chilometri, a parte il fatto che quella strada, ho incontrato un tiro su quella strada per venire qua. Quindi ti immagino una strada che è una carreggiata di 3 metri, con un tiro che passa in direzione opposta. Speriamo, speriamo. Noi stiamo facendo tutto il possibile perché diciamo siano risolte le nostre difficoltà. Stamattina siamo stati convocati dal sindaco per eventuali informazioni su un eventuale ponte carraio. Ora vediamo un po' quello che dice. Noi siamo fiduciosi nel lavoro che sta sviluppando il sindaco, con la speranza che tutti gli altri forze politiche, sia regionali che provinciali, abbiano la facoltà di eventualmente realizzare questa situazione, che è veramente una cosa molto ma molto incresciosa. Dunque pertanto siamo stanchi di allungare i 12 chilometri, andate e ritorno, perché è insostenibile, anche per la pericolosità della strada. Questo è quanto. Staremo a vedere quello che ci devono dire. La manifestazione domenica è confermata alle ore 11. Siamo già preparati, è una manifestazione pacifica, una manifestazione solidale, per quanto chi vuole partecipare partecipe, anche dall'altra parte del ponte, perché noi più siamo meglio è, perché se non siamo pochissimi nessuno ci prende in considerazione. E a proposito dunque delle comunicazioni che il sindaco doveva dare, vediamo cosa ci ha detto Salvatore Quinci. Ma incontriamo ancora una volta il comitato e i residenti del quartiere di Boccarena, perché questa battaglia è la nostra battaglia, è la mia battaglia. Da subito ci siamo messi al fianco di questi residenti per provare a ridurre il disagio di questa situazione incredibile che si è venuta a generare. Io devo ribadire ancora una volta che oggi siamo con il ponte chiuso e un quartiere costretto ad allungare con una strada che, nonostante tutti i tentativi che abbiamo messo in campo, non è lo stesso sicura come passare il ponte, per colpa di una mancata manutenzione ultradecennale. Questo va sempre ribadito e su questo chiameremo in causa il libero consorzio, a questa responsabilità. Non certo il commissario Cerami che è qui da poco, non certo il dirigente, il segretario Scalisi che è lì da quattro anni, ma dal 2009 a oggi è mancata questa manutenzione. Questo dobbiamo dirlo e oggi siamo qui per questa responsabilità. Detto questo, noi da subito abbiamo affrontato tutte le possibili soluzioni che non sono semplici, perché la burocrazia la fa sempre da padrone, ma oggi siamo in condizioni di prospettare una soluzione che speriamo sia veloce e possa consentire ai nostri concittadini di oltrepassare in sicurezza il fiume Arena e di recarsi in centro città senza dover percorrere una strada che passa in mezzo alla riserva e quindi è buia e quindi è tortuosa e certamente per quella massa di traffico urbano costituita da pedoni, ciclisti, motociclisti non può essere considerata una strada adeguata. Abbiamo esplorato tutte le opzioni possibili. Ovviamente abbiamo cominciato con l'esercito italiano, con il genio militare. Come sapete l'esito di una riunione in prefettura è stato negativo perché ci vuole troppo tempo, non perché non si può fare. Necessitano fondazioni che addirittura devono essere realizzate sul letto del fiume. Quindi già solo dal punto di vista autorizzativo e burocratico passerebbero mesi infiniti. Abbiamo valutato l'opzione di poter utilizzare il ponte esistente ma questa è stata immediatamente scartata alla presenza della massima autorità, il prefetto per cui io devo dire una cosa con nettezza. Io trovo irresponsabile chi continua a dire che dobbiamo passare attraverso il ponte perché se ingegneri, professionisti, professori universitari che si occupano di queste cose e hanno approfondito questo tema dicono che è pericolosissimo. Come si fa a sostenere questa cosa? Io non voglio difendere una posizione. Mi affido ai tecnici e agli studiosi. Oggi siamo su Facebook tutti virologi, ingegneri, politici. Se chi ha fatto degli studi approfonditi e che studia questa materia da una vita dice che è pericoloso, chi si assume la responsabilità se poi succede qualcosa e c'è l'incidente magari grave? Poi diremmo che non si doveva fare. Questa cosa la trovo irresponsabile a tutti i livelli perché è un percorso che abbiamo esplorato ed è stato scartato alla presenza della massima autorità del governo, cioè il prefetto. Detto questo noi siamo qui oggi per proporre invece un ponte carrabile. Abbiamo trovato le risorse ed è stato complicato. Abbiamo trovato la soluzione tecnica perché ci lavoriamo da settimane e settimane con una multinazionale che realizza questi ponti, che ce li ha già prefabbricati ma lì il problema è costituire le fondazioni e le spalle. Se la burocrazia di Trapani e di Palermo, devo dire tutti i dirigenti disponibili con i quali abbiamo già intrapreso informalmente questi colloqui, ce lo consentirà noi potremo realizzare presto questo ponte e alleviare il disagio dei cittadini di Boccarena. Non dipende da noi, noi siamo pronti, siamo sul pezzo da sempre. Vediamo se tutti gli enti che dovranno autorizzarci saranno veloci come noi. Spostiamoci adesso ad Alcamo dove ieri pomeriggio si è svolta la cerimonia di proclamazione a sindaco di Domenico Surdi, appena eletto con il 42,39% di preferenza alle amministrative di domenica e lunedì. È stato il segretario generale Vito Bonanno a dare lettura del verbale delle operazioni compiute dall'ufficio centrale elettorale per l'avvenuta elezione a sindaco. Per quanto riguarda le giornate FAI, il gruppo Marsala va alla scoperta della riserva naturale del Lago Preola e Gorghi Tondi. Al via questo fine settimana le giornate FAI d'autunno, la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. I giovani del FAI propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione dell'evento con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d'Italia, tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del milite ignoto. A Mazzara del Vallo sarà possibile visitare la riserva naturale integrale Lago Preola e Gorghi Tondi, a partire dalle 9.30 fino alle 13 e dalle 15 alle 17. Inserita dal 1991 tra le aree naturali del Piano dei Parchi e delle riserve della Regione Sicilia, la riserva naturale integrale è stata istituita nel 1998 e contestualmente affidata in gestione al WWF Italia Onlus. Comprende un lembo di territorio posto tra Mazzara del Vallo e Torretta Granitola, circa un chilometro di distanza dal mare, e rappresenta una tra le zone umide più importanti della Sicilia occidentale. L'azione di salvaguardia è rivolta principalmente alle cinture di vegetazione sommersa e ripariale, alla vegetazione dei costoni calcarenitici a Quercus caliprinos, mentre dal punto di vista faunistico viene posta particolare attenzione alla protezione della popolazione di testugine palustre siciliana e di un piccolo ardeide, il Tarabusino, scelto come simbolo della riserva. I cinque bacini lacustri di origine carsica e lago Preola, il Murana e i tre gorghi tondi, l'alto, il medio e il basso, incastonati in un'ampia vallata circondata da basse colline calcare, appaiono al visitatore come un'oasi verde e fresca, inglobata in un ambiente circostante di terre fittamente coltivate. Normalmente chiuso al pubblico, la riserva apre in occasione delle giornate FAI. Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI, è infatti suggerito un contributo non obbligatorio di 3 euro. E chiudiamo con una notizia di sport, è iniziata stamattina alle 9 la Targa Florio 2021, organizzata dalla Cipalermo in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia e Daci Storico. Si apre con la prima tappa che si spinge fino all'estremo sud della provincia di Trapani e già stamattina qualcuno in città a Mazzara del Vallo ha potuto vedere passare le auto storiche. Complessivamente saranno 325 chilometri che porteranno gli oltre 200 equipaggi della Targa Floria Classica, di cui 90 prestigiose auto del cavallino rampante della Ferrari, dal capoluogo siciliano fino a dunque, come dicevamo, a Mazzara del Vallo. Ed era questa l'ultima notizia del nostro TG, vi lascio con la programmazione della nostra emittente e vi do appuntamento alla prossima edizione.